in questo episodio allora lo facciamo stile una pallotola spuntata ci metto del nastro adesivo poi ci metto una spada così te botto ci aggiungo l'abito dei pokemon ci starà bene vediamo vediamo no non ci sta bene cambio vestito metto un'altra cosa dai sta venendo bene ciao ragazzi bentornati sul mio canale come avete visto nella breve introduzione oggi prendo il poster del film una pallotola spuntata e inserirò il personaggio o comunque comico conduttore Valerio Lundini conduttore del famosissimo programma della Rai una pezza di Lundini se volete vedere degli spezzoni o dei pezzi più belli sono tutti su youtube e sono veramente pazzeschi iniziamo con la progettazione grazie a tutti Grazie a tutti. 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 All'inizio io volevo inserire l'abito con tutti i Pokémon, però non c'entrava assolutamente niente e non mi faceva impazzire come idea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.